Noi si chiamano, Mariolina, Mariolina, Margherita, Margherita, un applauso a Margherita Ovviamente è una bella notizia perché Margherita per il suo copriano ha deciso di pagare metà del pranzo vostro Ci paga tutto lì, tutto su Margherita Tutto messia, guarda tutto messia Allora la nostra, il libro, ci vediamo o ci siamo già visti qualche serata, qualche parte Allora se è la prima volta fate un applauso, con chi è la prima volta c'è un applauso Qui ci sono dei miei amici che non so, non è certo la prima volta Le parzellette sono passate 17 anni di voodoo, vi do in anteprima, ma che poi dimentico, una bella notizia Finalmente dopo tante repliche, perché adesso stanno andando le repliche del voodoo purtroppo Parte il nuovo voodoo nel mese di settembre Quindi qua con l'applauso stiamo girando le nuove parzellette E le parzellette che vediamo da così realmente accadute Non avete un'idea di quante parzellette che ho fatto Che non sono parzellette, sono scene viste per strada, al bar, al ristorante Per esempio adesso ve ne dico 3 o 4 che non sono parzellette, sono scene viste realmente Che non sono parzellette, sono scene viste per strada, al bar, al ristorante